Allora è stato assegnato l'incarico al consulente del pubblico ministero. Sarà dunque l'ingegner Placido Migliorino, soprannominato il mastino per il rigore delle sue ispezioni sui viadotti autostradali, in particolare dopo il crollo del ponte Morandi, a eseguire la perizia tecnica sul guardrail. Lo si è appreso quando sono stati convocati in procura i legali dei tre indagati, scritti nel registro dal sostituto procuratore Cameli che coordina le indagini. Si tratta dell'ingegner Roberto Di Bussolo, 53enne, residente a Mestre, dirigente del settore viabilità terraferma e mobilità del Comune di Venezia, e il 47enne Alberto Cesaro, residente a Martellago, responsabile invece del servizio manutenzione viabilità terraferma. Il terzo è il padovano 63enne Massimo Fiorese, amministratore delegato della società La Linea, per verificare se ci sia una concausa nell'incidente, ad esempio un guasto nel mezzo. Un atto dovuto, non un'anticipazione di responsabilità per permettere di partecipare alla consulenza tecnica e quindi di difendersi. Gli avvisi sono stati recapitati ieri. Sono tante le questioni poste, sia di diritto di difesa, perché è chiaro che trovarsi ad affrontare un accertamento di questo tipo in 24 ore altamente tecnico è complesso. Le ipotesi sono di omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose. Il quesito riguarda lo stato di conservazione del guardrail e la dinamica del sinistro. Noi abbiamo nominato, tutte le parti hanno nominato i propri consulenti tecnici, il consulente del pubblico ministero ha previsto un termine di 120 giorni per depositare l'elaborato, quindi andiamo a febbraio 2024. Ha fissato per il sopralluogo sull'area due date, il 25 di ottobre e il 9 di novembre. Verrà chiusa l'area al traffico e si recheranno lì tutti i consulenti, le parti per il sopralluogo. Assenti e molto provati gli indagati, ma presenti alcune delle parti offese. Certamente non c'erano tutte le famiglie delle 21 vittime. C'era qualche parte offesa, c'era un curatore speciale per i due minori che sono morti, l'ingegnere di bussolo che naturalmente è affranto sia dall'evento sia da questo procedimento penale che gli è caduto sulla testa, è una questione molto tecnica in cui ritiene di non avere responsabilità, adesso è un procedimento appena nato, faremo tutto il necessario per capire tante cose, insomma è una cosa troppo fresca per poter dire qualunque cosa, comunque ci sono tante verifiche da fare. È molto affranto, è a lavoro e poi è dispiaciuto come tutti noi per la tragedia, ovviamente si aggiunge al dispiacere anche il fatto di essere indagato per un reato così grave. Massimo Fiorese è profondamente addolorato, non può che essere così di fronte a un fatto che è tanto tragico quanto imprevedibile e ancora oggi spiegabile. auspicchiamo che è certamente i tecnici che l'attività di indagine ci consenta di capire quella che può essere stata la causa.